Una riflessione sulla fotografia al femminile tra mostre, 5 a Modica e 3 a Scigli, con il coinvolgimento di alcune delle più belle location dei due comuni, un workshop e oltre 40 artisti in esposizione. Il premio Luce e Ble e Don, organizzato dal gruppo Luce e Ble e tutto questo e molto altro, fino al 6 ottobre sarà possibile visitare le varie mostre in programma per conoscere tra memoria, tradizione e innovazione una visione prospettica profonda e ricca di significato. Antonella Monzoni, che è stata assegnata in riconoscimento per quest'anno e che ha incontrato gli studenti del liceo classico Galilei Campailla di Modica per un confronto diretto, è presente con una mostra dal titolo La bellezza silenziosa. Presente anche Pippo Papalardo, protagonista con un Alexio Magistralis di grandissimo impatto. Sono molto onorata di questo premio per tanti motivi, senza altro per questa magnifica regione che io adoro, è come arrivare in un'isola felice, senz'altro per le cittadine di Modica e di Scicli che mi hanno ospitato in questo lungo weekend ed è stata un'esperienza meravigliosa di incontri, di conoscenze e anche di rafforzamenti di pensieri e di emozioni. Il premio Luceblea quest'anno è dedicato alla fotografia femminile e quindi per me è un doppio onore essere premiata come prima donna fotografa di questa interessantissima manifestazione. La fotografia per me è incontro, ho parlato prima di incontro e quindi viene rafforzato ancora più il concetto. Incontro perché ti permette la conoscenza di altre persone, di conoscere le loro realtà, le loro vite, di entrare in maniera più o meno verticale nella loro vita perché queste comunque si affidano a te. Grazie.